Andrea Peana, il volto felice di una Nerese che vince una partita importante perché vi rilancia in chiave playoff. Sì, noi dovevamo assolutamente vincere. Noi siamo venuti qua con quella fame giusta perché siamo arrivati da una settimana un po' particolare. Abbiamo fatto su tre partiti in una settimana due sconfitte pesanti per noi, soprattutto quella in casa con l'Alba Longa. Poi fortunatamente oggi abbiamo avuto il piglio giusto perché qua sapevamo che era difficile, loro li rispettavamo tanto. Io conosco tanti dei ragazzi che sono qua e siamo soddisfattissimi di questa vittoria con te. Mi dispiace per il Muravera, per me specialmente che sono stato qua nella zona, per noi dovevamo vincere. E' un in bocca al lupo a loro assolutamente. Senti, il significato proprio di questa vittoria perché al di là poi della sconfitta con l'Alba Longa, quella d'Avezzano è stata detta da tutti voi al termine della brutta gara. Sì, è stata una bruttissima gara, io non c'ero sfortunatamente, però ho visto i ragazzi molto amareggiati perché sono quelle partite che nascono male e finiscono peggio. Quindi ci siamo preparati benissimo, l'allenatore ci ha dato una grossa mano perché non era semplice, il morale era abbastanza basso. Invece ci siamo allenati benissimo e qua avevamo appunto la fame già dal primo minuto e si è vista. Quindi, l'abbiamo detto con i tuoi compagni, con il mister, segnare prima del riposo è fondamentale, no? Sì, è fondamentale perché vai proprio a riposo con quella voglia in più di ripartire meglio al secondo tempo. Invece subirlo a un minuto dalla fine, diciamo, entri un po' demoralizzato, cerchi di riparti subito, magari ti scopri e rischi di prendere tanti contropiedi, come è successo. Però dai, soddisfatti. Il contropiede è poi l'armavigliore del Muravera, la guai, la concedono, no? Assolutamente, perché Nurkia e de Sena sono le loro caratteristiche. Noi ci siamo preparati tanto su queste loro armi e è andata abbastanza bene, anche se loro, giustamente, essendo bravi, hanno avuto qualche occasione. Senti, guardando il Muravera, ti stupisce vedere Luka Konkas da allenatore? Tu che l'hai conosciuta, hai un altro video. Io l'ho conosciuto come compagno di squadra e mi fa piacere per lui perché è un bravissimo ragazzo e già quando giocavamo insieme si vedeva che aveva la voglia di gestire i ragazzi magari più piccoli, si vedeva che aveva il piglio d'allenatore. Sono contento per lui, spero che riesca a salvare la squadra perché se lo meritava è soprattutto perché è un bravo ragazzo. Penso che sia anche un bravo allenatore con delle idee giuste, si sono viste oggi. Invece, tornando alla Nuorese, questa vittoria vi dà carica, è un senso migliore per questo finale di stagione perché il quinto posto non è distantissimo e anzi ci sono diverse gare. Sì esatto, ci sono tante gare, adesso ci sono i tre punti del Foligno che stanno prendendo tutte e noi ci fanno comodo. Poi nella parte finale del campionato avremo tutti i riscontri diretti e là dirà se veramente riusciremo a centrare l'obiettivo che la società ci ha imposto e che è quello di centrare i play-off. Sarà difficile perché sono tante che vogliono ambire a questo obiettivo e noi cercheremo di mettercelo tutte e cercare di arrivarci. Convece, tornando a te personalmente, in qualità di difensore, il reparto vincere quando non si subisce gol? La cosa migliore, fortunatamente, quest'anno è andata così parecchie volte. E' stato diverso tempo anche la miglior difesa di tanti. Sì, è vero, è stata una bella cosa, soprattutto da difensore per tutto il reparto, è una bella soddisfazione. Poi ci sta, puoi prendere golle, quelle partite un po' difficili che sono capitate, però siamo ancora là e quindi l'importante è, guarda, io sono uno di quelli che non preferisce vincere 5-4 o 7-5, ma 1-0 al novantesimo per me è l'ottima. Tra l'altro una difesa non è che il pacchetto arretrato è sempre lo stesso da tempo. ruotate tanto e quindi è merito, sicuramente, degli allenamenti che fate perché si vede che chi entra... Sì, siamo tanti, siamo quattro centrali, due giovani e due grandi che ci alterniamo tutti quanti e sia sulle esterne possiamo utilizzare sia grandi che giovani. L'allenatore sappiamo che è molto bravo sulla fase difensiva e si vede, si vede la sua mano su questo, però possiamo dire che chiunque giochi fa bene. Invece l'avete accontentato oggi il mister, che è esigente, che in panchina non sta mai fermo. Non sta mai fermo, lo conosciamo, anzi cerchiamo sempre di placarlo e oggi abbiamo visto a fine partita soddisfatto, ma come tutti abbiamo tirato un sospiro di sollievo perché è capitato ad altre gare di arrivare fino alla fine, magari di prendere gol come è successo a Rieti, con il Rieti in casa di prendere gol al novantacinquesimo e quindi c'è sempre un po' quell'ansia, però oggi è andata bene. Grazie Andrea Peana, complimenti, in bocca al lupo per il fine di stagione, vi aspettano tante gare importanti e un traguardo importante. Ci proveremo fino alla fine, ciao.